Chi può presti un occhio di riguardo a parenti, amici, vicini di casa, anziani. Spesso per loro le settimane centrali dell'estate rischiano ad essere fonte di sofferenze e solitudine. Torna anche quest'anno la campagna Non lasciamoli soli, voluta dai sindacati dei pensionati, FNPC, SLS, PCGL e WilpWil, a sostegno in generale degli anziani ma soprattutto degli ultraottantenni, i più fragili. Soprattutto i grandi anziani, che sono circa 65.000 in provincia di Pesce, gli ultraottantenni, nei confronti dei rischi di isolamento, marginazione, mancanza di legami, di relazioni, fragilità. La campagna di SPI, FNPC e Wilp vuole avere valenza culturale in una società che esalta l'apparire e tende a negare il dolore, ma anche sociale, dato l'invecchiamento della popolazione, che ha fatto segnare in 20 anni un più 47% di ultra 65 anni, il 70% dei quali, in base a dati IMSS, vive con pensioni inferiori ai 1000 euro al mese, con servizi in costante diminuzione da parte delle amministrazioni pubbliche. Fortunatamente c'è un tessuto di volontariato diffuso, radicato in provincia di Brescia, che in molti casi copre i buchi dei servizi pubblici e delle prestazioni pubbliche. Noi sottolineiamo l'importanza di questa rete, anzi, guai se non ci fosse, e però non deve diventare elemento di supplenza al ruolo delle istituzioni. Ricordando a chi ne avesse bisogno che i sindacati dei pensionati sono a disposizione comunque per assistenza e informazioni.